buongiorno italia ciao capretta il vicino capretta non mi ero neanche accorto buongiorno italia decidiamo se andare a destra o a sinistra la in fondo c'è un zignore mentre di qua non c'è nessuno e vedo anche una spezzetta ai sassi bravo cosa ha trovato non capisco questo pelo di chi è serve legna ok se esci dalla parte destra il mio giardino è chiuso vediamo se anche dalla parte opposta è la stessa cosa per la serie per il momento non si può camminare in riva al fiume cioè se voglio farti sta scivolata qua no tu guarda mondo rimbambito saranno le scale per scendere dai che scendiamo mi aspettavo molto più sporco nel senso sì ci sono cartazze bottiglie di plastica wow buongiorno italia e tanta altra roba però molta meno rispetto ad altri fiumi che ho visto ma buongiorno italia cp vedi che ti porto sempre nei giardini fighi solo che qui non devi andare in acqua se non la corrente ti prende e ti ritrovo ti ritrovo gioiesolo in mare prima mattina cane atletico non so se cane atletico o cane mona dove vai di là guarda che tipo no in acqua che ti ammazzo emi emi ha la ciotola dell'acqua sempre lavata con l'acqua pulitissima e lei deve bere da pozzanghere stagni fossi cane ti sopprimo psicologicamente nel senso che gli mando sguardi di odio posso saltare di là per andare di là qua ma io ho le scarpe impermeabili quindi un po' qui te non potevi saltare vieni nel giardin di singanin c'è anche il cagnolin nel giardin parararararara eh la si puoi bere lì si qui è pulita no prima dove era caca che te bevi sempre dove caca è schifo che ti prendi il tetano e altro che la mononucleosi la pluriultraclerosi la cos'è tu guarda cane devi sempre tagliarmi la strada già non capisco c'è centinaia di metri di spazio e lei qua però beh amati sti cani pensa che ero convinto di avere il 18-55 come obiettivo invece è un 16-50 da dove pisce il cane che tipo pensa te la vita ora le mie giornate cambieranno radicalmente ma figurati quasi un peccato dover andare via però tra tra virgolette un po' parto devo far vedere quel cacchio il clima che entra acqua e speriamo bene speriamo bene nel senso che vediamo di far di tutto per non spaccare l'oblò insomma ecco cioè vuoi che non ci sia modo di toglierlo senza spaccarlo? CP non c'è neanche tanta strada sono 70 chilometri ma pulmin mi assupisce vedi ragasso in queste due giornate abbiamo visitato l'area camper momentaneamente senza carico ma è solo una cosa provvisoria perché hai sentito il signore ha detto no no mando subito i tecnici a sistemare più avanti visiteremo anche il paesino che c'è alle spalle non ho approfondito bene questo posto non so se ci sono anche qui trincee hai capito bunker grotte quello non lo so l'unica cosa che so è che qui ci ha segnato questo grande giro ciclo turistico ma tanto grande c'è roba da ciclisti non roba da singani sì che io ho dato accidenti questi due giorni di bicicletta sono distrutto poi con tutta l'umidità che abbiamo ti lascio immaginare oggi neanche tanto oggi non c'è nebbia ma l'umidità di questi posti si fa sentire comunque o ti rendo conto che siamo in riva un fiume? quindi Italia segna avanzi di visitare questo bel paesino ci tornerò con gli amici che io chiamo scherzosamente truppa sì perché sono sempre i soliti in senso buono nei video delle puntine no? spi andiamo su stavi cercando la strada hai perso la strada stiamo vivendo un periodo abbastanza difficile anche per quanto riguarda i piccoli problemini di salute no? tipo quelli che ad esempio a singano tra parentesi cos'è rimasto? l'allergia che ho tutto il naso chiuso di solito di solito mi si sta poi in autunno e invece ce l'ho ancora e la schiena ho questi due gruppi di nervi schiacciati però vuoi vedere che non si può proprio far niente di niente cioè almeno andare da uno di quei cosi posturali che ti dicono guarda devi fare questi esercizi tenere queste posizioni non tenere quelle altre ma qual è il problema allora a singano? no ti odio ti odio cane il problema è il cane che no io adesso ti lavo tu adesso entri in doccia c'è non una parola mongola tu entri in doccia no 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 inutile che fai così no 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 occhio doccia doccia adesso ma guarda te oh ti ho lavata ieri tutta profumata adesso me ne esci stonfa da 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 per carità non è sporco ma vai in mone stesso cane vabbè stavo dicendo che il mio nuovo medico non risponde mai cioè lì praticamente non c'è un numero di telefono non esiste tu puoi provare a chiamare un milione di volte non risponderanno mai al telefono tanto che la prima volta sono andato in persona vabbè ma questi sono dettagli no giusto perché tanti magari dicono che la sanità non funziona a Roma al sud eccetera stupardo e coglioni anche qua e ho ricevuto poi un'email dal vecchio medico che ha mandato così una newsletter a tutti ricordando che lui faceva i tamponi per il coronavirus canetti suo primo e che per questo motivo le persone anziane erano invitate diciamo a lasciare stare le visite di controllo di routine e a portare pazienza capisci Italia Emi dove cazzo avevo attraversato io boh secondo me là veniamo Emi dai fuori ma ti sbatto in doccia adesso secondo me dai qua e dopo lì faccio il saltino sì ferma è che se io salto qua il stupido del mio cane si butta in acqua quindi devo passare per forza per di qua che è più basso minchia si scivola a mille non è stata un'eccellente idea eh singano vabbè vai ti sta bene poi che era quella la salita il cambouc il cambouc felice eh di esserti sporcata tutta sei felice adesso sei realizzata stai meglio tutta sporca stai meglio eh lo so la conosco io conosco i miei polli può essere di qua non credo più però non ci sia un zecchio in questo periodo sì poteva essere interessante segnarsi la strada da dove eravamo entrati vabbè cane dai hai vita all'arbalta ma sì dai qua con la rincorsa ce la si fa e quello dopo vedremo dai dai no no cane cane di merda tu e quattro eh lei ha quattro zampe motrice ed io va la natura ha già preparato gli addobbi di Natale pensa che bello trovarsi in questa situazione mentre magari veniva sul fiume ah sì sì sarebbe stata una monata da singano proprio le ho trovate dimmi cpi sì ok le abbiamo trovate ok oddio percepivo un po' di prurito alla gamba giusto un pochino cosa mi sono pinciato un istrice sai perché ti sparo sempre monate per motivi logistici guarda qua l'albero se prima non ti avessi detto serve legna adesso non mi sarei ricordato che quest'albero l'abbiamo già passato ne possiamo evincere che le monate sono di importare l'evitanza non a caso musichetta di superquark il termine monato venne coniato dall'antico significato del termine mona che è la rappresentazione dell'importanza vitale l'importanza assoluta chiamasi soggettiva chiamasi antropocentrica dell'essere umano super singano quark che strano il mondo di mattina è tutto strano cioè ho vissuto decenni alzandomi ovviamente quando non lavoravo quelle rare volte che non lavoravo o i weekend alle 11 di mattina 10 e mezza 11 e mezzogiorno e adesso adesso ritrovarmi in sveglio così alle 7 e mezza andare in giro è tanto strano perfino il cp ha detto ma che cacchio stiamo facendo eccoci tornati buongiorno casa buongiorno pulmini che mona che sono possiamo fare anche un raduno qua vada a posti vieni vieni con me andiamo a contatti corvo mi affascinano i corvi perché perché sono degli animali particolarmente intelligenti ho visto video di corvi giocare a calcio con i cani no che gli tiravano la pallina solo che con noi esseri umani sono molto schivi cioè io non sono mai riuscito a avvicinarmi tanto ad un corvo addirittura neanche a dargli da mangiare vabbè contiamo un attimo le piazzole ah no guarda sono numerate qui arrivi a 12 quindi moltiplicato pertanto moltiplicato per 2 fa 24 quindi Italia un raduno qua lo si può fare tranquillamente ovviamente al caso magari di avvisare il comune di Segusino quando lo faremo boh capodanno qua dici perché dopo per carità siamo bassi per quello non lo so ne parlo con gli altri sì abbiamo il fiume Piave ma siamo cioè non è proprio natura 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 capisci cioè ormai ci siamo abituati bene vedi Italia il mio consiglio è impitona al massimo finché sei giovane perché poi non dico quando sarai vecchio ma quando sarai più grande dovrai mettere da parte un attimo lavaggi e inseguire la tua vera libertà che va al di fuori della sessualità non è che ti mando da altre sponde o robe strane no ma ti porto in posti dove tu puoi alzarti quando vuoi puoi lavarti quando vuoi puoi metterti bretella ma soprattutto puoi darci dentro di aglio e cipolla come non ci fosse un domani pensa a te che se la felicità è un bicchiere di vino con un panino prova a immaginare un panino com'è essa bottiglia ehi Siri mi piace la topa dici davvero? sì sì cos'è c'è il successo? c'è il vigile che fa segno di venire avanti ma se stanno tutti fermi sai cosa veniamo avanti? cosa creiamo? le doppie file? si è anche arrabbiato il vigile cioè ci hanno fatto segno di andare di qua e dopo l'altro ci ha detto roba perché si è andati di qua comunque cos'è successo? non riesco a capire cp è da tanto che diciamo dobbiamo farci un pisolino al pomeriggio come gli anziani non c'è niente ci prendiamo il caffè perché percepiamo ancora lo spirito giovane wow cp una fabbrica pessile so sta noi so stiamo qui per via della vista frontale il laterale vieni anche tu Emi vieni a fare il giro so stanco non voglio allontanarmi quindi sono in questa specie di parcheggio in teoria è la coppia non c'è nessuno ma è la coppia spero di stare tranquillo qua perché ci sono tanti zingari in questa zona purtroppo ma zingari quelli veri non vedo l'ora di risolvere questo problema del clima più che altro perché pulming per me è sempre stato un sinonimo di indistruttibilità impermeabilità sicurezza soprattutto nelle giornate tempestose che abbiamo noi col forte vento la pioggia e tutto quanto e poi mi entra pioggia dal climatizzatore e mi cade il mondo più a te a te non te ne frega niente a te basta puntare i bau e il gatto e basta mangiare e scoleggiare soprattutto mangiare e scoleggiare dai si sta alzando il vento il freddo seratina nerda il calduzzo seratina nerda significa montare i video dai che se un giorno mi si decuplicassero i numeri almeno potrei farlo come lavoro e quindi dedicare più tempo al canale ora invece per ovvi più che ovvi ovvissimi motivi non posso assolutamente sprecare tempo per il canale è una brutta parola sprecare però quando non riesci ad avere tempo a sufficienza per il lavoro e lo dedichi agli hobby o alle passioni in qualche modo è sprecato nel senso che stiamo parlando comunque di limiti di sopravvivenza ossia bisogna lavorare il tanto che basta per riuscire a mangiare e non far morire il cane ho detto giusto cane no perché dopo lei mi controlla mi dice no sta scena non va bene questa è da tagliare cos'è che ti è accaduto guarda è che è mio non è che devi fare le storie per darmelo è mio cosa te ne fai te del libro cos'è ah le affinità lettive ero arrivato a metà poi non ho proprio più avuto voglia di leggere toccava anche al libro della Simona Gervasone una nostra carissima affezionatissima tu sei altissima purissima levissima però no non ce la faccio e fare le cose per forza direi proprio di no sto iniziando ad utilizzare il riscaldamento l'alde in corsa col motore ma è veramente una figata assurda scalda un casino in più risparmia anche una fracca di gas praticamente tu non devi accendere la caldaia devi lasciarla così com'è semplicemente accendi la pompetta dei termi sta qua 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 cosa fa la pompetta dei termi sostanzialmente niente ti fa solo circolare il liquido all'interno dei termi ma non scalda non fa nulla fa solo muovere il liquido in giro per i termi quindi tu corri il motore scalda il liquido dei termi il motorino lo fa girare tutti i termi balli bollenti a gratis eh sì no 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 è giusto a gratis perché comunque tu correre devi correre ok e quindi che tu accendi il riscaldamento o non lo accendi consumi uguale no no questa è una bella roba si sta morendo dal caldo ma è una bella roba sai perché l'avevo acceso perché ho ancora le scarpe ad asciugare fammi sentire allora le sue lette sono asciutissime le scarpe queste ancora umidizie queste invece no ancora no non ci siamo